Il ferro è un minerale assolutamente indispensabile per la nostra salute, ma i dati epidemiologici indicano che una fetta consistente della popolazione non ne assume una quantità ottimale, sviluppando quindi una carenza o un'anemia. È stato infatti calcolato come nel mondo vi siano almeno 700 milioni che soffrono di questa carenza e circa 2 miliardi sono affette da anemia sideropenica. I motivi di questa carenza sono molteplici e riguardano il sesso di appartenenza, l'alimentazione, gli stili di vita e fenomeni di malassorbimento. Questo significa che, per aiutare il recupero di questo prezioso minerale, è importante poter contare su integratori di facile somministrazione e che non provochino effetti collaterali sull'apparato digerente come pesantezza, nausea e stipsi. Ibsa Farmaceutici, a questo scopo, ha realizzato un integratore mirato sulle esigenze dei pazienti, la cui formulazione in un film oro dispersibile è di sicuro gradimento per coloro che non riescono a integrare il ferro a causa di questi fastidi. Dottor Dunegani, qual è la funzione del ferro nell'organismo umano? Il ferro nell'organismo umano svolge diverse funzioni. Noi di solito lo associamo giustamente all'emoglobina, quindi al trasporto dell'ossigeno attraverso i lobuli rossi. Però in realtà ne troviamo anche all'interno dei muscoli in una forma diversa, mioglobina, dove in pratica serve a bloccare l'ossigeno, a darlo alle cellule quando ne hanno bisogno. Poi quando le cellule lo richiedono il ferro interviene in tutti quei meccanismi che producono energia, quindi è fondamentale per avere l'energia che ci serve e poi anche lo troviamo come componente di tanti enzimi, cioè tante sostanze che permettono reazioni vitali anche di produzione di tessuti. Per esempio il ferro serve molto per produrre il collagene, serve molto per produrre la mielina che è quella sostanza che riveste i nervi e poi il ferro ha anche una grossa funzione nello stimolare e nel sostenere il sistema immunitario. Quindi diciamo che da un certo punto di vista è un minerale che pur essendo presente in piccola quantità, perché nel nostro organismo ce ne sono più o meno 5 grammi, però svolge davvero un insieme di funzioni senza le quali non potremmo vivere. Quali sono le principali fonti di ferro che possiamo assumere per via alimentare? Il ferro alimentare dobbiamo dire una cosa, non è tutto uguale, ne esistono due forme distinte, una è quella che si trova appunto in forma eme, cioè legata alla mioglobina e alla emoglobina, che si assorbe più facilmente, l'altra è una forma diversa, non eme, che si assorbe con maggiore difficoltà. La forma eme la troviamo soprattutto nella carne e nel pesce sostanzialmente, carne vuol dire anche salumi, così. La forma non eme invece è più tipica dei vegetali, anche se in buona parte la troviamo anche questa nella carne, nel pesce e in tutti gli alimenti animali. Ci sono ovviamente degli alimenti che hanno particolare ricchezza di ferro, allora tra i vegetali sicuramente la soia, i legumi in generale, in particolare magari le lenticchie e i vegetali a foglia verde sono un'ottima fonte di ferro che se anche assorbiamo con maggior difficoltà abbiamo però la modalità, un modo semplice come dire per migliorare di molto l'assorbimento che è quello di utilizzare insieme a questi alimenti anche delle fonti di vitamina C, quindi degli agrumi, banalmente gli spinaci contengono una certa quota di ferro, se la condiamo con il limone, se li condiamo con il limone questo ferro lo assimiliamo molto meglio. Dopodiché un'alimentazione varia, la carne, non è vero che la carne rossa sia ricchissima di ferro e la carne bianca no, c'è una buona quantità di ferro in tutte e due, diciamo che le carni e i pesci ma anche e soprattutto i mollusti rimangono altre ottime fonti di ferro. Nel corso del tempo in relazione al sesso e all'età cambia il fabbisogno di ferro? Le necessità di ferro non sono le stesse per tutti gli individui, innanzitutto una differenza importante riguarda il genere, i maschi hanno bisogno di una quantità di ferro minore che non le femmine, le donne in età fertile in particolare devono sopperire ovviamente a quel ferro che viene perso con le mestruazioni, delle emorragie inevitabili. Poi ci sono determinati periodi della vita che richiedono un maggior consumo di ferro, un maggior introito di ferro, la gravidanza prima di tutto, le donne in gravidanza hanno bisogno di molto più ferro perché devono far fronte anche alle esigenze del bimbo che si sta creando, alle esigenze della placenza e poi le esigenze della mamma stessa che non deve andare in carezza. Bisogna in sostanza entrare nell'idea che il ferro nel nostro organismo andrebbe monitorato di tanto in tanto, almeno una volta all'anno diciamo, salvo non intervengano fattori particolari e in base a quello decidere se l'alimentazione è sufficiente o se è meglio anche integrarla. Perché è utile associare l'integrazione di ferro con quella di acido folico? Negli integratori l'abbinamento tra ferro e acido folico è virtuoso perché si crea una reciproca sinergia, nel senso che entrambi sono sostanze delle quali in effetti si registra una carenza diffusa e si danno una mano l'uno con l'altra, nel senso che l'acido folico per esempio serve molto indispensabile per la costruzione dei globuli rossi, a questo punto il ferro diventa fondamentale per completare l'emoglobina all'interno dei globuli rossi, ma ancora entrambi sia acido folico che ferro servono per la costruzione delle proteine del DNA, per cui per esempio nel caso di uno sportivo che deve rigenerare dei tessuti dopo l'attività ecco che anche in questo caso l'associazione diventa virtuosa, in più diciamo che sia l'acido folico che il ferro inibiscono lo stress ossidativo, un altro motivo per cui insieme effettivamente migliorano, danno un cocktail che effettivamente porta dei vantaggi.